E' durata quasi sei ore l'autopsia sui corpi di Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri e Nicola Colameo, 45enne di Guilmi. I tre operai morti tre giorni fa in seguito all'esplosione avvenuta all'interno del sito della Sabino Esplodenti di Casalbordino. E' stato il medico legale Pietro Falco, anatomopatologo della ASL di Lanciano Vasto Chieti, ad effettuare questa mattina presso l'Istituto di Medicina Legale di Chieti l'esame autoptico. La durata è stata un po' diciamo i tempi un po' si sono prolungati perché abbiamo dovuto ripetere alcune operazioni con il personale RIS dei carabinieri e quindi questo un po' ha ritardato. Ovviamente anche la stessa ricomposizione dei corpi ha comportato ovviamente quello che potete immaginare. Adesso l'esito degli esami autoptici chiaramente dobbiamo riferirgli al magistrato, anche dobbiamo aspettare i risultati degli esami radiografici e tossicologici e quindi dobbiamo ancora aspettare questi dati. Noi abbiamo trovato chiaramente dei corpi che sono stati sottoposti sicuramente ad un'azione lesiva importante tanto da determinare il depezzamento delle povere vittime. Sul piano metodologico abbiamo fatto appunto intanto gli esami radiografici con le TAC e adesso ci sono da fare gli esami tossicologici. Intanto questa mattina si è tenuto un nuovo sopralluogo sul sito dove c'è stata l'esplosione da parte del procuratore capo della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio. Nel pomeriggio si sono tenuti i funerali di Carlo Spinelli e Paolo Pepe mentre domani sarà la volta delle sequie di Nicola Colameo.